bentornati sul mio canale benvenuti nuovi iscritti oggi prima di iniziare il tutorial vorrei mostrare alcuni acquisti che ho fatto allora questo libretto diciamo l'ho acquistato alla fiera del libro nei pressi di amsterdam e lo trovo molto utile per fare biglietti augurali noi possiamo scegliere come avete visto vi ho sfogliato così brevemente sono tutti a tema natalizio ma non solo nelle festività per cui se il natale è vero che è passato abbiamo ancora l'epifania e abbiamo altre feste comunque come il capodanno appunto la fine dell'anno eccetera ne ho vista una sfogliandola adesso che riguarda proprio questa bellissima mi piace molto che riguarda l'epifania per cui se la trovo subito riguarda l'epifania e c'erano delle calze poi quando cerchi le cose non le trovi mai vediamo è infatti è sparita eccola peraltro questi sono predisposti come per mettere il francobollo come biglietti augurali però noi noi non ci fermiamo qua lo sapete non non ci basta dipingerle perché sono solo per essere dipinti quindi comunque sono dei discorsi creativi però io vi voglio far vedere a creare dei biglietti in un fai da te totale a creare dei biglietti in un fenomenon caldo a creare dei biglietti in un fai da te trovi a creare dei biglietti in un settantale a creare dei biglietti in un fai non ci fermiona all'2 mappucati in un formale a creare dei biglietti in un fai de dubbio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.